È arrivata l'estate 2022 anche qui all'Open Factory a Nichelino e dal 18 di giugno partiamo con aperitivo, eventi musicali dal vivo, workshop, stand-up comedy per trascorrere le nostre serate in compagnia dei nostri amici. Wow, we are open! Finalmente riapriamo le porte di questo magnifico luogo per non chiuderle più. Un'offerta a 360 gradi rivolta alle famiglie, ai giovanissimi, ai giovani e ai diversamente giovani. Ci vediamo qui all'Open Factory in Via del Castello 15 da sabato 18. Vi aspetto!